La frase il futuro del comune a Mestre è stata citata fuori contesto, Brugnaro denuncia polemiche gratuite e la giunta a voce il referendum per la separazione tra Venezia e Mestre. Intanto le opposizioni vanno all'attacco, sicurezza, residenza, motondoso, tutela dell'artigianato, in un anno il sindaco non ha fatto niente. In regione Bufera, dopo le dichiarazioni del consigliere di maggioranza Sergio Berlato sulla riforma della sanità, i gruppi di minoranza chiedono chiarezza. Ancora problemi per il tram di Mestre, questa volta ha tamponato un furgone in panne sul ponte della Libertà, disagi per i pendolari. Preoccupazioni a Chioggia dopo l'apertura del cantiere per il nuovo deposito di GPL, pronta anche una manifestazione per fermare l'opera. Scopre che il figlio minorenne spaccia droghe, lo denuncia ai carabinieri, dalla perquisizione in cameretta spuntano 12 ovuli con 110 grammi di asci, c'è successo a San Donà. 800 atleti da Mezzomondo si sfideranno in una competizione massacrante, 180 chilometri di bicicletta, 41 di corse e quasi 4 a nuoto in laguna. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia Mestre. Dunque l'apertura del nostro notiziario è dedicata alla polemica rovente di questi giorni sulle dichiarazioni del sindaco Brugnaro, che avrebbe affermato come il futuro del comune sia a Mestre e non nella città storica. Bene, oggi Brugnaro ha chiarito la sua posizione. Un veneziano non ha paura di niente, certamente non della marginalità. Venezia, tutto si può dire che forse fosse pensata come marginale. È il centro del mondo. Altro che marginalizzazione di Venezia in una politica comunale che punterà tutto su Mestre. Eppure in città da qualche giorno la polemica è rovente. Quella frase, il futuro del comune non è a Venezia ma è a Mestre, dove c'è la gente che vive, pronunciata dal sindaco in occasione di un incontro pubblico con il ministro Dario Franceschini, ha acceso il dibattito. Ma quella frase, dice Brugnaro, è stata citata totalmente fuori contesto. Le polemiche sono gratuite. Le polemiche le fanno sempre i soliti noti, sono in tre, sono sempre quelli, potete girarli, sono sempre quelli. Stavamo parlando di periferie urbane, parlavo di gente che ha disagio, non parlavo di tutta la città. Ogni città, io penso che il centro storico non deve essere presentato certamente da me la qualità. Ho detto che il futuro, nel senso che parlavamo di periferie, lì bisogna intervenire fortemente con l'architettura moderna. Questo era il contesto di quello che ho detto, quindi nessuna risposta polemica. Certamente è evidente che un grande spazio metropolitano è quello che ci serve per fare la competizione internazionale. Perché la competizione è quello che serve, cioè Fortuna è il territorio competitivo, conosciuto, competitivo, interconnesso soprattutto, per attirare gli investimenti da tutto il mondo. Un territorio competitivo, interconnesso ed evidentemente unito, visto che la giunta comunale ha dato parere negativo al referendum per la separazione tra Venezia e Mestre. Una consultazione definita incostituzionale al punto da far presagire un ricorso altare alla presidenza del Consiglio. Un tema che potrebbe portare ad un braccio di ferro con la Regione, che viceversa il referendum lo vede di buon occhio. La delibera di giunta intanto ha preso la via del Consiglio comunale, dove sarà ammessa i voti la settimana prossima, tra prevedibili mal di pancia da parte dell'alleato leghista. Brugnaro tira dritto. Oggi era la presentazione del Venice Challenge, una gara internazionale di corsa, nuoto e ciclismo, che si svolgerà domenica tra Venezia e la terraferma. Una manifestazione per certi versi paradigmatica della città che ha in mente. È bello vedere il sacrificio, il sudore della fronte e chi lavora sa che questo è energia. La città deve tornare ad essere una città energetica. Qual è il futuro per il Comune? Anche il quesito che vi poniamo nel nostro Tg, linea aperta di questa settimana, lo spazio del notiziario riservato alle vostre opinioni. Il futuro del Comune è a Mestre o a Venezia? Come sempre potete esprimere la vostra opinione inviando un sms, una mail, un fax ai numeri e agli indirizzi che vedete in sovraimpressione. E' a un anno dal suo insediamento e anche tempo di bilanci per la giunta presieduta da Luigi Brugnaro, che deve fronteggiare le accuse di immobilismo che sono rivolte dall'opposizione. Purtroppo abbiamo assistito, stiamo assistendo a tanti proclami ma nulla di fatto. Il Consiglio Comunale purtroppo, e dico purtroppo per tutti noi veneziani, è bloccato, è paralizzato, non ci sono delibere che arrivano in Consiglio, il Consiglio non si riunisce. Io credo che l'attività amministrativa, al di là dei grandi annunci, si concretizzi poi con atti amministrativi. In un anno di governo non è stato fatto quasi nulla. L'accusa di immobilismo al sindaco Brugnaro e alla sua giunta arriva dal consigliere Nicola Pellicani, già sfortunato candidato alle primarie del centro-sinistra. Tra le situazioni sulle quali nulla si è mosso ci sono, secondo Pellicani, la sicurezza, la residenza, il rilancio dell'industria del vetro, il motondoso, la tutela dell'artigianato e il controllo di tutte le proprietà immobiliari pubbliche. Tutte cose ricorda che erano state promesse in campagna elettorale. Spesso succede, come nell'ultimo caso, in relazione alla delibera sul federalismo fiscale, sull'idea di Sant'Andrea, è stata anche bocciata dal TAR. Ecco, quindi credo che se ci sia bisogno di un'accelerazione, soprattutto Brugnaro deve dire cosa vuol fare, perché lui sta dicendo cosa non vuol fare. Il Parlamento faccia una legge per fissare i limiti all'emissione di FAS nei corsi d'acqua, lo chiede il Presidente della Regione, Luca Zaia. Dopo l'ennesimo esposto in procura del Movimento 5 Stelle, il governatore Luca Zaia torna sull'emergenza FAS, che secondo i grillini sarebbe ben più estesa del previsto e toccherebbe anche la foccia del Brent e la Laguna Veneta. La politica degli esposti la conosciamo, ma li abbiamo fatti noi per primi alla procura. Dico semplicemente che ogni cittadino, quando ha conoscenza di qualcosa che non funziona, è il suo diritto a denunciare. Dico che noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, è dal 2013 che stiamo lavorando, adesso c'è questa campagna di monitoraggio. Campagna, ricorda Zaia, al termine della quale si avranno informazioni più precise, i costi sono proibitivi e lo sforzo economico della Regione è stato molto rilevante, sottolinea il governatore, lo Stato ci dovrebbe dare una mano, non solo con un intervento straordinario, ma anche con una nuova normativa. Ricordo che se si vogliono vedere risultati sotto il profilo delle procure, bisogna chiedere al governo che si decida a mettere i limiti, perché è come chiedere di multare qualcuno per il limite di velocità, perché corre troppo forte, ma poi ti scopri che nel codice della strada non c'è il limite. Ed ora andiamo a Chioggia, dove tra la popolazione e i lavoratori del porto la preoccupazione è altissima per l'apertura dei cantieri per il nuovo deposito di GPL. Il deposito da 9.000 metri cubi di GPL in Punta Colombia, meno di 300 metri dal centro abitato di Chioggia, una cinquantina da due poli scolastici, è una follia? Ne è convinta la consigliera regionale a 5 stelle Erika Baldin, che promette di fare il possibile per bloccare l'opera, i cui cantieri sono già aperti dopo l'autorizzazione ricevuta dal Ministero. Ci sono studi che dimostrano che nel raggio di 500 metri l'impianto, se esplode, fa tabula rasa, quindi rade al suolo l'intera città. E inoltre, fino a 5 chilometri, ci sono degli effetti comunque devastanti, ma con gradualità. Per la particolarità della posizione, aggiunge chi vive e lavora quotidianamente nel porto di Chioggia, un incidente sarebbe tutt'altro che impossibile. Questo canale è molto trafficato, perché è il canale di accesso al porto per quanto riguarda le navi commerciali, e diciamo che Punta Colombi sorge proprio in una curva dove le navi si trovano a fare una manovra un po' delicata. Quindi è una cosa da tenere assolutamente sotto osservazione e sotto controllo, perché può succedere l'errore umano. Oltre ai rischi per la vita della popolazione, ve ne sarebbero anche di pesanti per l'intera economia portuale di Chioggia. Quest'impianto qua rovinerà inesorabilmente tutta l'area di Levante del porto, perché mettendo un impianto non potranno più stare vicino imprese portuali e attraccare anche altre navi di diversa tipologia di carico. L'impianto renderà inoltre necessario provvedere a una collocazione diversa del mercato ittico, che dovrebbe essere spostato in un'isola fuori Chioggia, al costo di centinaia di milioni di euro di messa a norma. Mentre dove dovrebbe sorgere il deposito ci sarebbe già una banchina disponibile e l'investimento necessario sarebbe molto più contenuto. All'iter per l'approvazione, spiega Baldin, mancano il parere della Commissione di Salvaguardia di Venezia e quello della Capitaneria di Porto. Abbiamo già fatto un esposto in procura per denunciare questi vizi procedurali dell'iter autorizzativo, queste mancanze gravi e fondamentali che inficciano la validità dell'atto. Faremo di tutto per bloccare quest'opera scelerata, promette la consigliera, anche mobilitando la popolazione in una grande manifestazione di piazza. Hanno suscitato un putiferio le dichiarazioni del consigliere regionale di maggioranza, Sergio Berlato, in merito alla riforma in atto alla sanità veneta. Vediamo. Io ho detto semplicemente che ho avuto incontri con dei sindaci che rappresentano il territorio e che sono preoccupati dal fatto che alcune scelte fatte dalla regione fossero depotenziare alcune ulse, alcuni ospedali, non garantendo quel servizio indispensabile che invece deve essere garantito ai cittadini, che è il servizio sanitario. Le preoccupazioni espresse da Sergio Berlato nella Commissione Sanità del Consiglio regionale e ribadite in diretta a Focus hanno fatto scattare una presa di posizione congiunta delle tre opposizioni, PD, 5 Stelle e Tosiani. Vogliono smantellare la sanità veneta, tuona il grillino Jacopo Berti, ma noi li combatteremo per tutelare i cittadini e soprattutto gli ospedali di provincia. Se Berlato ha ragione, Zaia dovrebbe spiegare ai veneti che ci sono strutture ospedaliere di serie A e di serie B, aggiunge Alessandra Moretti del PD, e se invece dopo le inquietanti dichiarazioni Berlato fa retromarcia, ci chiediamo quali siano i motivi reali che l'hanno indotto a ritrattare la sua originaria e pesante denuncia. Ho solo riportato le preoccupazioni di chi amministra il territorio, spiega Berlato. Siccome abbiamo questi tipi di denunce che ci arrivano dai sindaci, mi sono reso portavoce di questi timori e ho fatto in modo da sollevare la questione in commissione proprio per avere la garanzia da parte della maggioranza e da parte dell'assessore alla sanità a coletto che questi timori che vengono paventati dai sindaci non si concretizzino in scelte che poi possono ricadere negativamente sulle teste dei nostri concittadini. Assicurazioni che sono puntualmente giunte dalla maggioranza, riferisce il consigliere di Fratelli d'Italia. Se per caso qualcuno intendeva attuare spostamenti di risorse tra l'unse e l'altra, a fini puramente elettorali, l'abbiamo stoppato sul nascere. Ancora problemi per il tram di Mestre. Questa volta un mezzo della linea T1 diretto a Mestre da Venezia ha tamponato un furgone in panne che era fermo sul Ponte della Libertà. A bordo del furgone c'era una donna che è rimasta lievemente ferita, erano circa le 7 e un quarto di questa mattina. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, ciò che è chiaro invece è che la linea è andata inevitabilmente in tilt. ACTV ha attivato gli autobus sostitutivi, ma i disagi per i pendolari sono stati inevitabili. Un cittadino cinese è stato arrestato dai carabinieri di Sandola di Piave per aver gettato dell'acqua bollente addosso ad un connazionale che è finito anche egli in manette perché è latitante dal 2011 dopo essere stato condannato in via definitiva a sei anni di carcere per reati sessuali nei confronti di minori. I carabinieri erano stati allertati dal SUEM dopo che si era presentato in ospedale in gravi condizioni. L'uomo ustionato di secondo grado su buona parte del corpo, volto compreso. Rimano sempre a Sandonà per un'altra vicenda, invece quella di un padre che ha scoperto della droga nella camera del figlio e non ha esitato a denunciarlo ai carabinieri. Nella camera del ragazzo il padre ha trovato delle dosi di hashish e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Dalla perquisizione dei carabinieri sono spuntati 12 ovuli contenenti in tutto 110 grammi di hashish. Il ragazzo, 17enne, è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Ora parliamo di una manifestazione che si svolgerà a Venezia domenica che coinvolgerà ben 800 atleti provenienti da 49 nazioni. Una cosa del genere a Venezia non si era ancora vista. Domenica centinaia di atleti provenienti da Mezzomondo si sfideranno in una competizione massacrante che prevede una dietro l'altra una corsa ciclistica da 180 chilometri da Venezia a Monastiere Ritorno, 41 chilometri di corsa al Parco di San Giuliano e quasi 4 chilometri di nuoto in laguna lungo il Ponte della Libertà. Lo chiamano triathlon e per la prima volta sbarca in laguna nella sua forma più impegnativa, quella che per lo sforzo richiesto è riservata a coloro che per evidenti motivi sono stati ribattezzati gli Ironman, uomini d'acciaio. Sono 800 atleti iscritti da 49 paesi diversi e come prima edizione devo dire che siamo rimasti stupiti anche noi della risposta. È chiaro che un mix fatto di distanza Ironman e Venezia insieme è quello che ha funzionato perché venire a Venezia a poter fare una gara di questo tipo rappresenta per ogni atleta il sogno di una vita. Tra gli atleti partecipanti c'è anche chi gioca in casa come Massimo Cigana che è nato a Mestre. È uno sport in cui oltre al fisico contano anche in air. Contano soprattutto la testa, è uno sport dove la testa fa la differenza come in tanti ambiti della vita, in tanti campi però qui soprattutto nelle lunghe distanze dal punto di vista mentale è molto importante per cui bisogna essere molto allenati anche da quel punto di vista. Non solo uomini ma anche donne d'acciaio come Martina Dogana di Vicenza. Gareggiare vicino a casa però dal punto di vista psicologico e emotivo mi darà sicuramente una mano perché spero che saranno in tanti a venire a supportarmi e tutti quelli che mi hanno sopportato in questi mesi di allenamento. Qual è il suo obiettivo domenico? Il mio obiettivo è sicuramente arrivare più avanti possibile, non voglio dire altro. E ora andiamo a vedere le previsioni delle maree per le prossime ore. La minima è prevista questa notte alle 3.55 e meno 20 centimetri. La massima invece si raggiungerà alle 10.10 di domani mattina con 55 centimetri. Domani pomeriggio la minima è prevista per le 15.25 con 10 centimetri. La massima si toccherà alle 21.40 con 85 centimetri. Vi chiederemo cosa pensate del 2 giugno e dei 70 anni della Repubblica. Questa sera a Focus vi ovviamente parleremo ancora del Veneto, dei migranti e delle banche al collasso. Ospiti in studio con il direttore Luigi Bacialli, Bruno Cesaro, Andrea Ostellari, Sebastiano Sartoretto, Valente Chierregato, Luigino Tasinato, Leonardo Campion, Luciano Sturaro. Come al solito aspettiamo i vostri sms. E con questo per stasera da Venezia è tutto. Grazie dell'attenzione. Arrivederci.